Ciao, vi presento, sono Matteo Trotta, sono responsabile della GM Service. Se tu stai guardando questo video è perché sei alla ricerca di un lavoro, in modo particolare di un lavoro autonomo. Magari sono mesi, forse anni, che stai guardando su internet alla ricerca della soluzione ideale per te, un franchising. Bene, io ti propongo un'attività nuova, un'attività moderna, che svolgo da oltre 16 anni. Servizi alle imprese. Cosa vuol dire servizi alle imprese? Ebbene, ci occupiamo di tutto quello che è l'amministrativo, il burocratico, ma leviamo le imprese in imprenditori da quella che è la burocrazia, facciamo per loro le pratiche, tutti i tipi di pratiche. Quindi è un'attività che in questo momento, in modo particolare in Italia, è un'attività che dà la possibilità di fare dei grossi inutili, delle grandi redditività, investendo veramente poco. Il nostro tempo. Come ti dicevo, è un'attività che svolgo da 16 anni. Non ci occupiamo solo di pratiche per gli imprenditori, offriamo una vastissima gamma di servizi che diamo sia agli imprenditori che ai privati. Ciò mi ha consentito di realizzare il sogno della mia vita e voglio far partecipare anche te di questo sogno. Voglio che anche tu abbia la possibilità di avviare un'attività tua, investendo poco e avendo la possibilità di replicare quello che è il successo che noi abbiamo avuto qua in Lombardia. Bene, non vi voglio dilungare troppo sul video, non voglio darti delle grandi anticipazioni. Ti dico soltanto che il nostro non è il classico franchising. Anzi, non è per niente un franchising. Presso di noi tu imparerai un mestiere, lo imparerai qua presso la nostra sede, giorno dopo giorno, perché il nostro corso di formazione dura almeno una settimana, dieci giorni. E lo puoi rifrequentare quando vorrai. Uscito dai nostri uffici sarai in grado di avviare la tua attività con soddisfazione. Sono enormi i vantaggi che propongo a chi vuole diventare imprenditore. E il costo, bene, il costo è una sorpresa. Ti renderai conto che con un minimo investimento potrai avviare l'attività dei tuoi sogni, che potrà anche renderti libero finanziariamente. Ti saluto, ti invito a mandare una mail che troverai sotto questo video per contattarmi oppure di contattarmi direttamente ai numeri di telefono che troverai in sovraimpressione sotto questo video. Ciao da Matteo Trotta, desidero conoscerti al più presto qua presso i miei uffici per avviare la tua attività, l'attività di successo. Tutto pratiche. Ciao da Matteo Trotta. Grazie.